Grazie, sono molto contento di essere qua con voi questa sera anche perché è una delle prime volte che canto da queste parti e poi anche perché sono toscano come voi. Voglio farvi ascoltare le canzoni che fanno parte di un long plan che è uscito da pochissimo. Quella che avete appena ascoltato si intitola Radio, è accompagnata anche da un video uscito da pochissimi giorni ed è la storia di un ragazzo che dopo un'esplosione nucleare rimane da solo. Inizia un viaggio in cerca di qualcuno con cui parlare, però non trova nessuno, trova soltanto una radio una radio che sarà la sua unica compagna per tutta la vita forse, quindi è una storia forse anche un po' triste ma speriamo si risolva bene. La prossima canzone fa sempre parte dell'album, si intitola Fuggitivo. Grazie. 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 Grazie.